Un saluto ai telespettatori di Le Fonti TV, siamo qui per una nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. Parliamo oggi di un tema molto caldo, una notizia che è uscita diversi giorni fa, di cui si continua a parlare. Direi una delle poche novità positive, quantomeno in prospettiva, se consideriamo gli ultimi drammatici mesi. Parlo della candidatura di Milano, quale sede del Tribunale Unificato dei Brevetti, per quello che riguarda però l'ambito farmaceutico. Ecco, obiettivo della puntata di oggi è proprio capire effettivamente qual è il risvolto strategico di questa candidatura, perché è una partita così importante quella che sta giocando Milano e direi tutta Italia, considerando anche il fatto che è stata scelta Torino come sede per l'Istituto per l'Intelligenza Artificiale. Ma anche vedremo come funzionerà il Tribunale, che cos'è il brevetto unitario e come si differenzia dal brevetto europeo. Potremmo fare tutte queste riflessioni grazie al nostro ospite di oggi, che è qui con noi, che vi presento, e che è l'avvocato Luigi Fontanesi, partner dello studio legale Greenberg Traurig Santa Maria, ed esperto per l'appunto di diritto industriale e proprietà intellettuale. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, io vi ringrazio in primo luogo di questo invito in questi studi bellissimi, che sono peraltro nuovi rispetto a quelli che avevo visto precedentemente e che appunto sono molto accoglienti. Avvocato, infatti lei ha l'onore e onere di inaugurare le interviste di Le Fonti Liga in questi nuovi studi e appunto io partirei proprio dai risvolti strategici che può avere, che potrà avere, speriamo, insomma la candidatura di Milano, che speriamo che andrà a buon fine e anche perché è stata scelta Milano. Beh, è stata scelta Milano perché fra tutte le città italiane era quella che aveva il maggior numero di domande di brevetto richieste, in base a una verifica pare più del 21-22% di tutte le domande brevettuali depositate all'interno del nostro paese. Oltretutto se si va a fare un conteggio anche delle domande di brevetto presentate all'interno della Lombardia si arriva circa a 33-34% delle domande di brevetto globali depositate in Italia. Per cui Milano risultava essere proprio da un punto di vista tecnologico la città più adatta per poter cercare di ottenere questo riconoscimento a livello di Unione Europea e quindi l'attribuzione di questo tribunale, che è comunque un tribunale molto prestigioso, in sostituzione del Brexit da parte dell'Inghilterra e quindi della necessaria rinuncia alla sede di Londra come sede appunto per il Tribunale Unificato con riferimento alla materia legata al Life Science. Che cosa comporterà l'eventuale assegnazione a Milano, come tutti auspichiamo, del Tribunale Unificato? Senz'altro ci toglierà l'amaro in bocca per avere perso l'attribuzione dell'Agenzia del Farmaco che ci siamo visti portare via un po' in estremis. Senz'altro un indotto per tutti gli addetti ai lavori, ma non solo, perché potrebbe essere anche un impulso proprio alla ricerca e all'interesse per tutti gli addetti ai lavori per poter brevettare di più. Non c'è dubbio che sia interessante per tutto l'apparato legale che si occupa di diritto industriale e quindi gli avvocati specializzati in diritto industriale, i vari mandatari, i vari patent attorney che si occupano di questa materia, i commercialisti perché possono espandere il loro campo di attività e quindi senz'altro avrà un interesse economico, sociale, tecnologico notevole. Quindi questo sarà senz'altro un vantaggio, oltre ad aver ottenuto un riconoscimento che apparentemente, visto il numero di brevetti, ci vedeva quarto all'interno dei paesi dell'Unione Europea e quindi parrebbe doverci spettare, non dico di diritto, ma per merito. Esatto, poi non tutti sanno perché non stanno emergendo probabilmente degli approfondimenti così tecnici, però riguarda l'ambito del life science, giusto? Certamente, tutti i brevetti di carattere farmaceutico e legati al mondo farmaceutico in generale. Su questo aspetto si può rifare anche al discorso che facevamo prima dell'Agenzia del Farmaco, senz'altro Milano e la Lombardia in ambito farmaceutico hanno delle punte di diamante a livello anche internazionale e quindi proprio la candidatura in questo determinato settore sembra appropriata per la città di Milano. Sì, che poi appunto c'è stata anche una partita politica, tra virgolette, senza anche le virgolette, tra Milano e Torino, PD 5 Stelle, e poi c'è stata una soluzione che ha accontentato tutte e due le città e che potrebbe portare anche a un hub, no? Ha fatto bene a dire ad accontentato tutte e due le città, perché francamente anche l'attribuzione dell'Istituto per l'intelligenza artificiale è un riconoscimento alla città di Torino di estremo prestigio. Se si vanno ad analizzare le materie che saranno oggetto di studio e di ricerca da parte dell'Istituto, come per esempio la cyber security, piuttosto che la robotica, l'applicazione della robotica alle industrie in generale, come per esempio l'approfondimento della connessione 5G, questo per dirne alcune, secondo me sono tutte materie che dovranno essere oggetto di attenzione non soltanto da parte dei tecnici del settore, quindi scienziati, professionisti, eccetera, ma anche da parte dei giovani che vorranno capire quale carriera intraprendere un domani, quale soggetto approfondire, queste materie sono senz'altro le materie interessanti, importanti, oggi e lo saranno senz'altro per un sacco di tempo anche domani, perché rappresentano sicuramente l'evoluzione tecnologica del futuro. Sì, che contiamo appunto che poi il governo porti avanti utilizzando anche i fondi del CERCOVERY FAN, perché anche quella è un'occasione da sviluppare, da sviluppare bene, l'Italia è sempre stata una nazione da un punto di vista scientifico, tecnologico di alto profilo, seppur con un certo autolesionismo che ci è proprio, ma abbiamo avuti scienziati, abbiamo scienziati di fama nazionale, internazionale di altissimo livello, ci facciamo riconoscere all'estero e siamo ricercati all'estero proprio per queste competenze tecnico-scientifiche di primissimo piano. Ogni volta che capita un'occasione come quella dell'Istituto dell'Intelligenza Artificiale, è necessario prendere questa occasione al volo, ma soprattutto fare il meglio che sia possibile per svilupparlo e renderlo un istituto di prima grandezza, di prima importanza. Certo, Avvocato, i tempi, nel senso giustamente lei diceva che è legato alla Brexit, quindi se ne parlerà dopo il 31 dicembre? Sì, se ne parlerà dopo il 31 dicembre, non mi sembra che sia stata ancora indicata una data entro il quale ci si debba esprimere sulla candidatura per l'assegnazione della terza sede centrale del Tribunale Unificato, dovrebbe avvenire non molto dopo, appunto, il 31 dicembre 2020. E nel frattempo? Nel frattempo la sede di Londra dovrebbe essere assegnata in modo temporaneo alle due sedi di Parigi e di Monaco. Ecco, infatti, grazie per la chiarezza, perché appunto bisogna dipanare una serie di dubbi. Dovrebbe essere assegnata in via temporanea appunto a Parigi e a Monaco, certamente. Ecco, e vediamo anche come funzionerà questo Tribunale Unificato. Allora, l'apparato è, primo luogo bisogna capire che per arrivare a questa soluzione del brevetto unitario, del Tribunale Unificato, che poi vanno visti come un apparato unico alla fine, come un unico risultato, ci sono voluti 40 anni di negoziati da parte dei membri dell'Unione Europea perché non si riusciva a trovare un'unica soluzione giuridica, politica e anche interpretativa su un testo comune che normasse appunto il brevetto unitario. Prima esisteva in base alla convezione del brevetto europeo appunto la registrazione, la tutela del brevetto europeo che però dava una tutela differente da quella del brevetto unitario. Il brevetto europeo è un fascio di brevetti, ha una procedura di ottenimento più complessa, viene richiesto appunto allo European Patent Office, il richiedente, l'applicant, deposita una domanda di brevetto dando l'indicazione appunto dei paesi dell'Unione Europea e non solo perché sono 26 gli aderenti alla convenzione sul brevetto europeo più 10 altri paesi che sono al di fuori dell'Unione Europea. Quindi mi sembra siano o 38 o 36, adesso non mi ricordo un numero preciso. E una volta concessa, ottenuta la privativa, il soggetto che ha richiesto il brevetto europeo sarà costretto a tradurre i claim del brevetto, la domanda di brevetto, in tutte le lingue dei paesi dove ha richiesto appunto la protezione brevettuale. Questo cosa comporta? Comporta un dispendio di costi enorme, in quanto le traduzioni, sembra strano, ma la traduzione incide sul costo della domanda di brevetto per un ammontare superiore alla metà, quindi ha un costo enorme. Immaginate dover ottenere la tutela brevettuale europea in tutti i paesi che hanno aderito alla convenzione sul brevetto europeo. Provate a immaginare un piccolo imprenditore, una start-up tecnologica, una start-up universitaria, un inventore privato, sarebbe quasi impossibilitato per i costi. Costi e tempi poi immagino? I tempi anche, certo perché c'è la convalida nei vari paesi, però più che problema di tempi è un problema di costi, perché spesso per risparmiare appunto sul costo di registrazione si rinuncia a determinati paesi, a depositarla in determinati paesi, lasciando appunto degli spazi di tutela vuoti e quindi la tutela brevettuale in ambito europeo risulta meno forte rispetto a coprire l'intero parco di nazioni. Questo avveniva già per esempio col marchio comunitario, ora marchio dell'Unione Europea. Sul marchio per esempio c'era una tutela brevettuale unitaria. Stavo dicendo, dopo 40 anni appunto di negoziati abbiamo ottenuto un brevetto unitario. Il brevetto unitario è simile e affine alla tutela del marchio dell'Unione Europea. È un unico brevetto che permette di estendere la tutela brevettuale su tutti i paesi dell'Unione e permette di risparmiare sui costi di traduzione perché il brevetto viene depositato in una delle tre lingue che tanto furono oggetto di polemica ai tempi con Italia e Spagna, in una tre lingue indicate per la definizione dei claim, per la redazione dei claim, quindi tedesco, francese e inglese. Una volta ottenuto viene tradotto nelle altre due lingue. Quindi abbiamo un risparmio di traduzioni fortissimo da un punto di vista economico. La procedura è senz'altro più snella perché automaticamente riprende tutti i paesi che hanno aderito alle convenzioni per il brevetto unitario e quindi riprende tutti questi paesi in un'unica soluzione. Quindi è più economico e più snella la procedura, dà una tutela apparentemente maggiore. Poi lo dovremo vedere indubbiamente nello svolgimento della pratica, come verrà attuato e soprattutto come verrà combinato con l'applicazione del Tribunale Unificato dei Brevetti, come si svolgerà appunto la tutela da un punto di vista pratico sostanziale. Certo e a livello poi normativo è un regolamento europeo giusto? Sono due regolamenti europei quelli che hanno regolato il brevetto unitario, il 1257 del 2012 e il 1260 del 2012. Il primo regola proprio quello che si dice la cooperazione rafforzata per l'ottenimento del brevetto unitario, mentre il secondo, sempre nel medesimo ambito, regola appunto l'aspetto delle traduzioni, traduzioni che hanno avuto tante polemiche, ma la polemica dell'Italia e della Spagna in merito alla scelta delle lingue ufficiali per la traduzione delle domande di brevetto, dei claim nelle domande di brevetto, non era soltanto una lotta di carattere prettamente politico, non era un braccio di ferro politico. Per noi avvocati e per i mandatari allo stesso modo brevetti, la traduzione di un testo tecnico-scientifico in una lingua diversa dalla nostra può creare dei problemi interpretativi non indifferenti, perché le parole hanno dei significati diversi. Certo, parliamo comunque di testi tecnici e quindi molto complicati. Era una polemica forse anche politica, ma che aveva una sua logica anche proprio giuridica interpretativa, quindi non era scontato, non è stata un'impuntatura, c'era anche un aspetto secondo me di tutela dei nostri prodotti, dei nostri brevetti, dei nostri processi, dei nostri trovati non indifferenti. Quindi spesso potevano esserci appunto delle sfumature nella traduzione che poi potevano portare... Avrà visto appunto per quello che dicevo bisognerà vedere nella pratica poi l'applicazione effettiva, no? Certo, ecco, e altri vantaggi anche per gli avvocati? Ma per gli avvocati, allora parliamo, per gli avvocati io credo che... Per gli avvocati italiani immagino gli spostamenti, banalmente. Per gli avvocati italiani probabilmente gli spostamenti e anche il fatto di avere un tribunale in casa, e quindi di non doversi rivolgere o non dover andare presso gli altri tribunali. Da un punto di vista strategico, sempre sul brevetto unitario, bisognerà vedere poi, a seconda dei vari clienti, delle varie applicazioni, delle varie tecnologie che saranno oggetto di brevettazione, se sarà più comodo utilizzare il brevetto unitario o, in questa fase di interlocutoria, il vecchio brevetto europeo. Se vuole possiamo vedere in breve, a parte questo aspetto, come funziona un po' il tribunale unificato. Allora, il tribunale unificato è un istituto sovranazionale che si compone, abbiamo visto, di tre sedi principali, tre sedi centrali, che sono la sede di Parigi, la sede di Monaco e la sede vacante, che appunto prima era stata a Londra, ma non è semplicemente organizzato in questo modo. Vi sono delle sedi locali e delle sedi regionali, circostanza forse della quale non tutti gli addetti agli avori sono consapevoli, perché possono essere richiesti dai vari stati aderenti, delle sedi locali. L'Italia, per esempio, aveva fatto già richiesta per una sede locale a Milano. E vi possono essere anche delle sedi regionali. Le sedi regionali sono delle sedi trasversali, che possono prendere due o tre stati. Ne esiste una adesso che coinvolge la Svezia, a mia conoscenza, forse è l'unica sede regionale attualmente esistente. E come funziona? Chi può rappresentare i clienti davanti al tribunale unificato? Ovviamente gli avvocati dei vari paesi, riconosciuti nei vari paesi aderenti e i mandatari, i tre macattorni, che possono stare in giudizio davanti al European Patent Office. Su cosa decide il tribunale unificato? Decide su tutte le azioni di contraffazione, azioni di non contraffazione, azioni dirette o indirette di dichiarazione di nullità dei brevetti, quindi azioni riconvenzionali, e sui provvedimenti cautelari, quindi azioni cautelari. Mentre le azioni di nullità dei brevetti o riconvenzionali di nullità o le azioni di accertamento di non contraffazione sono attribuite in via esclusiva alle sedi centrali, invece tutte le altre azioni, cioè le azioni di contraffazione, le azioni cautelari e adesso mi sfugge la terza che avevo detto prima, sono di competenza invece delle sezioni locali e delle sezioni regionali. Quindi è abbastanza complessa come struttura, non è una struttura semplice e il processo si svolge secondo cinque fasi, questo è molto interessante perché è un processo molto simile a quello che viene utilizzato ai procedimenti di common law. C'è prima una parte di carattere scritta, dove le parti instaurano il giudizio con la notifica di un atto di citazione e il convenuto si costituisce con una comparsa di risposta, quindi il procedimento inizia attraverso uno scambio di memorie scritte e proprio per questo si dice che è un procedimento molto simile a quelli relativi alla common law, perché nella fase iniziale il giudice non entra in maniera diretta. Poi abbiamo una fase interlocutoria dove il giudice si mette d'accordo con le parti per determinare i termini e le condizioni dello svolgimento della parte successiva del procedimento, addirittura tramite delle conference call, delle videoconferenze o delle semplici telefonate, praticamente stabilisce quali sono i tempi e i termini per lo svolgimento del processo. Poi c'è una fase orale nella quale c'è una vera e propria istruttoria delle prove e dove vi è l'udienza da fronte al collegio, che è la parte più importante del procedimento, la parte culminante del procedimento per la decisione del procedimento. E poi successivamente ci sono ulteriori fasi per stabilire i danni da risarcimento del danno e le spese legali. Questo è un po' l'iter e il cursus del procedimento. Che ha chiaramente però una durata minore rispetto a una durata molto minore, per esempio se non va derrato per decidere mi sembra che il collegio non abbia un tempo superiore alle sei settimane. Perfetto, benissimo, così almeno c'è un... Noi più breve il procedimento, ma tutti i procedimenti amministrativi sono normalmente più brevi del procedimento ordinario, seppure oggi francamente devo dire che i procedimenti ordinari hanno raggiunto nella maggior parte dei casi una tempistica accettabile. Noi abbiamo dei giudici che si occupano di diritto industriale che a mio avviso sono di un livello eccezionale, per cui non ci si può lamentare francamente per quanto riguarda le decisioni del tribunale ordinario. Bene, avvocato, il tempo a nostra disposizione si è concluso e la ringrazio molto per la chiarezza e spero appunto che ci saranno anche altre occasioni, perché insomma da qui poi a fine anno ci sono tanti altri temi che dovremo affrontare. Quindi grazie di nuovo a Luigi Fontanesi, Greenberg, Traurig, Santa Maria. Io ringrazio voi invece, ringrazio voi di avermi ospitato, è stato molto piacevole, spero di avere altre occasioni per avere degli scambi così gradevoli e cortesi. Bene, grazie anche ai nostri telespettatori, appuntamento, alla prossima puntata.